Ciao a tutti ragazzi, io sono AlanSist65 e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi ragazzi ci troviamo su Project Flight che è ritenuto dai giocatori di Roblox uno dei migliori simulatori di volo di Roblox. Scusate se non vi sono riuscite a portare i video ma mi dovevo riposare per via del programma scolastico durissimo che ho affrontato. E ragazzi, oggi andremo a fare un volo per riaprire la fila di video del canale. Quindi premiamo subito su gioca. Ah ragazzi, ho notato che nei video mettete pochi mi piace e le iscrizioni vorrei che si aggiungessero. Le iscrizioni aggiungetele se vi piace questo canale. Però almeno dei mi piace lasciateli perché in questo modo sono contento. Ecco, questa è la mia subliga per voi. Allora, partiamo con un Airbus A320. Oggi facciamo un voletto con questo velivolo. Andiamo a scegliere la compagnia. E scegliamo se stavolta facciamo... Due lingue, come? No. No. Eurowings? No. Facciamo... Malatam no. Tui no. Facciamo la Air Canada. E' bello la... Anzi, British Airways. E' bello. Definitivo. Allora, partiamo dall'aeroporto di Minorca. Ci sono già due voli. Andiamo al gate numero uno. Che è vicino alla via di rullaggio. Allora, vedo la grafica, come sta messa. Manuale. Allora, mettiamola al massimo. Vediamo come gira. A me sembra... Eh, la ghiacchia un pochetto. Quindi forse è meglio di no. E allora mettiamo due filette indietro. Due filette indietro. Ecco. Vabbè, dai. Così è discreta. Allora, inseriamo innanzitutto il tratto dove vogliamo andare. Da Minorca sta ausente. Non è io stavo pensando. Un tratto... Diciamo discreto. Metto la... L'altitudine. La setto già. Perché... In questo modo è. Faccio la manovra di pushback intanto e avvio i motori. Come vedete, ragazzi, questo motore si sta accendendo. Il motore che, dalla cabina dell'aereo, è il sinistro. Ma voi lo vedete alla mia destra. E lo chiameremo motore sinistro. Allora, allora, allora. Ora, freniamo e interrompiamo il pushback. Mandiamo avanti l'aereo. Qual 737 sta decollando? Ah, Jet 2. Jet Blue. Capito. Allora. Partiamo, ragazzi. Partiamo, ragazzi. Partiamo. Grazie. Ci dirigiamo ragazzi verso la pista. Allora. Quindi, ci siamo, siamo sulla pista 19 di minorca. Slap 2. Slap 2. E possiamo, penso, partire per il nostro volo. Slap 3. Slap 3. Slap 2. ok siamo decollati con successo diciamo sul carrello questo comunque questo specie di flexi questo flexible leather su roblox e costa 50 robux su roblox se voi avete roblox se vi piacciono gli aerei vi consiglio di prendervelo ve lo consiglio non vi dico prendetelo ve lo consiglio e basta poi fate come volete io poi se ve lo scordate di guardare i video se ve lo siete scordato direi di fare in questo modo di non dirottare l'aereo di però adesso bisogna rallentare perché altrimenti ok mi pareva fosse successo qualcosa di strano attiviamo la quella che diminuisce tutta la velocità perché se vogliamo atterrare con successo a south hampton dobbiamo avere una velocità molto ridotta lo so minorca e quest'isola dove è south hampton sono molto vicine però ascoltate che non è proprio comunque non è facile atterrare su questi aeroporti quindi potete capire bene delle volte lo stress dei piloti allora io adesso provo a fare un passaggio radente ok faccio un passaggio così tranquillo tranquillo poi mi volto e tento l'atterraggio ok facciamo in questa maniera delle volte funziona riprendiamo quota un pochino mettiamo i freni ridotti anzi facciamo una cosa facciamo che attorriamo anche 2x si infatti come credevo è l'aeroporto più vicino come credevo quindi facciamo l'atterraggio a gatewick che è uno dei principali aeroporti dell'inghilterra quindi in teoria ci sta pure adesso freni al massimo e tentiamo l'atterraggio ragazzi godetevi l'atterraggio se ci riesco ok ricevuto 350 piedi 250 piedi di altezza 162 di velocità ci abbassiamo ci abbassiamo allora inclinazione poi quando dobbiamo atterrare facciamo una cosa piano raga eccolo mettiamo giù la ruota mettiamo giù la ruota ed è un atterraggio buono raga mi è stato diagnosticato l'atterraggio buono e quindi ce l'abbiamo fatta beh adesso posso fare una cosa seguente ovvero cancellare il percorso e niente allora togliamo la cosa di pushbacks e ci ringiamo con calma verso intanto ha già la velocità di rollaggio preimpostata sta aeroporto per chi gliel'ho messa io però io gliela tolgo perché altitudine la spegniamo perfetto poi appena magari se abbiamo tempo ragazzi vi faccio vedere un po' gli aerei che ci sono e vi faccio vedere delle compagnie però due o tre perché altrimenti il video diventa un po' pallero un po' palloso come lo dico io detto il linguaggio grezzo allora lì c'è un piccolo cesano che decolla penso è un piccolo cesano che decolla e noi intanto dirigiamo il nostro velivolo verso il gate ne prendiamo uno qualsiasi tanto che ce ne frega a noi questo via di rollaggio è molto lunga ah allora allora anzi mi sa che non faccio in tempo a farvi vedere delle compagnie mi sa che non faccio proprio in tempo perché sto già registrando da 15 minuti e non vorrei che diventasse troppo lungo il video capito quindi ora vediamo come posso fare allora però intanto parcheggiamo il nostro aereo stiamo di qua lasciate tanti like se se sono un bravo un bravo pilota di aerei secondo voi e considerate che io su questo è una delle prime volte che ci gioco perché ieri l'ho scaricato ma solo per familiarizzare i comandi cioè qualche giorno fa l'ho scaricato per familiarizzare i comandi di fare un po' di voletti di prova però questo è il primo vero volo che mi riesce il secondo volo che mi riesce alla perfezione perfetto facciamo così direi che adesso spegniamo i motori come vedete raga si stanno spegnendo i motori sono completamente fermi ora scendo vedete questo vedete questo è il nostro questo cos'è questa roba oddio ma vabbè vi fa vedere il profilo dell'ala le cose allora bene ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto ecco ecco questo volo è servito per il rilancio del canale ascoltatemi ancora se non vi ho portato il video per questo tempo ma avevo da fare iscrivetevi al canale e attivate la cioè e lasciate tantissimo mi piace io vi saluto e ci vediamo in un prossimo video ciao ciao ciao